bene dopo aver visto il construction script andiamo a vedere come realizzare una geometria interattiva editabile attraverso il classico input o comunque attraverso l'interfaccia, il risultato non cambia vediamo come fare io già ho come sempre già preparato il mio bravo blueprint già col tasto F pronto all'uso quello che dobbiamo fare, entriamo chiudiamo quello di prima quello che dobbiamo fare è all'interno qui di blood print andiamo a creare un nuovo actor anzi no, facciamo così, operiamo con questo sistema destro clic, blueprint in modo che andiamo ad introdurre anche quelle che sono le structure structure ok, chiamiamole switch geometry ok, facciamo doppio clic sulla structure creata che cos'è la structure? la structure non è altro che una struttura di variabile personalizzate da noi per fare un esempio, adesso non l'abbiamo fatto ma potremmo farlo in modo molto semplice potrei creare una variabile di tipo integer una variabile di tipo vector una variabile di tipo stringa e con queste variabili richiamarle all'interno all'interno della programmazione blueprint ma facciamo questo esempio adesso scriviamo qui ad esempio cubo andiamo a scegliere static mesh scegliamo qui scendiamo static mesh object reference andiamo a scegliere qui magari il nostro cubo shape cube ok andiamo a creare una nuova variabile chiamiamola ad esempio chiel ok e andiamo a scegliere qua chiel blender creiamo una nuova variabile magari la chiamiamo cone e andiamo a scegliere qua come salviamo abbiamo creato tre variabili di tipo static mesh da poter utilizzare all'interno del nostro linguaggio blueprint adesso aggiungiamo qui all'interno della nostra blueprint una static mesh andiamo a scegliere ad esempio un cono per la nostra static mesh ok ritorniamo nell'event graph e qui nelle variabili andiamo a cliccare su segno plus e andiamo a creare switch geometry diamo invio cambiamo la tipologia in come avevamo chiamato in switch geometry nella nostra structure siamo andati a creare una variabile di tipo structure che noi abbiamo denominato switch geometry adesso quando io vado qua all'interno e vado a leggere valore switch geometry posso anche split pin posso leggere le tre geometrie ma ricombiniamo il tutto possiamo anche fare così rilasciamo e clicchiamo e clicchiamo su break switch geometry qua abbiamo il cubo qua abbiamo il cilindro qua abbiamo il cono adesso prendiamo la nostra static mesh rilasciamo il nostro filo e richiamiamo set static mesh perfetto per adesso mettiamolo qua facciamo altre due copie quindi ctrl w e ctrl w di queste due parti la nuova mesh per quanto riguarda qui gli diamo il cubo la nuova mesh per quanto riguarda qui gli diamo il cilindro ops la nuova mesh per quanto riguarda qui gli diamo il cono ovviamente il target sarà comune a tutti cioè io voglio trasformare il mio cono prima in un ehm prima in un box poi in un cilindro e poi ritornerà ad essere un cono quindi portiamo qua adesso la funzione da richiamare per fare questo con il tasto F è multi gate ok perchè adesso che cosa facciamo andiamo a creare un altro pin qui e andiamo a legare il primo out qui il secondo qui e il terzo qui ok mettiamo tutto in loop e compiliamo vediamo che cosa è successo innanzitutto vediamo mettiamo all'interno del nostro della nostra area di lavoro il blueprint appena creato quando vado in play vedo il mio cono adesso si presso F vedete cono cubo cilindro cilindro cubo cilindro cono cubo cubo cilindro cubo 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 就會 premendo il tasto F bene con questo semplice esempio spero che ti abbia in un certo senso aperto la mente perchè i campi di applicazione sono tantissimi basta pensare basta sostituire il tasto F è un'interfaccia con tre pulsanti e andare a switchare e cambiare la geometria.